È stata mascherata un'attività che doveva servire apparentemente a realizzare un bacino di irrigazione e in realtà è stata realizzata una cava estrattiva. Questa cava, come avete visto, ha praticamente, possiamo dire, divorato una collina. Sono così scattati i sigilli per l'area che si trova nella comune di Capolona dove sarebbero dovuti sorgere un noccioleto ed un laghetto artificiale. Le indagini coordinate dal pool ambiente della procura di Arezzo erano partite da un esposto presentato dal comitato Valle delle Piagge che da tempo si batte per la salvaguardia di quell'area esclusa circa un anno fa dal piano regionale Cave. Non è la prima volta che fatti e reati gravi in materia ambientale ci vengono segnalati dai cittadini che in questo caso si trasformano in vere e proprie sentinelle ambientali. In quell'area la scorsa estate erano infatti arrivate ruspe ed escavatori. I lavori iniziati in tempi record in realtà, secondo l'accusa, sarebbero serviti per una cava abusiva di inerti. Quello era l'interesse primario, cioè non tanto realizzare un vero laghetto che già nell'ipotesi progettuali era piuttosto inverosimile. Sia per l'ubicazione sia per le caratteristiche geologiche del sito avrebbe dovuto riempirsi nell'arco di nove anni un'area che appunto non ha nessuna alimentazione della rete idrica del luogo. Il GIP Giulia Soldini adesso ha accolto la richiesta del PM Laura Taddei disponendo il sequestro dell'area che ha un'ampiezza di circa 5 ettari. 4 le persone finite nel registro degli indagati, il proprietario del terreno, il titolare della ditta, il progettista e direttore dei lavori ed un geologo. Non è coinvolto, almeno per il momento, il comune di Capolona che ha rilasciato l'autorizzazione. Contestiamo reati di abusi per non avere nella sostanza realizzato opere conformemente alle autorizzazioni richieste, contestiamo reati di trattamento illecito di rifiuti, contestiamo reati di falso. Le indagini non sono ovviamente concluse ma intanto ci premeva il primo risultato cioè bloccare i lavori, cercare di fermare questa ulteriore attività di escavazione che riteniamo illecita. Grazie.